Un lutto avrebbe sconvolto oggi, 12 aprile 2016, il mondo della politica, in particolare del Movimento 5 Stelle. Sarebbe morto infatti, ripeto, 12 aprile 2016, a Milano, capoluogo Lombardo, Gianroberto Casaleccio. Era un imprenditore, un politico italiano, fu socio fondatore presidente della Casaleggio Associati SRL, Società Informatica e Editoriale, che si occupa di consulersi in materia di strategie di rete, e ha curato il blog di Beppe Grillo, con il quale sarebbe il fondatore del Movimento 5 Stelle, di cui sarebbe stato talora definito come il guru. È nato, vi ricordo, quest'uomo a Milano, capoluogo Lombardo, nel 1954, per la precisione, il 14 di agosto. Un personaggio che, ripeto, si è inserito, si è ben inserito nel mondo della politica, in particolare del Movimento 5 Stelle, prendendo in modo completo e diretto il sito di Beppe Grillo, il blog di Beppe Grillo e gestere i modi. Un personaggio di cui tanto si è parlato in passato, per alcuni sarebbe un personaggio controverso, per altri sarebbe, tra virgolette, un personaggio, tra virgolette, ripeto, con determinate idee troppo strampalate e o troppo bizzarre, per altri sarebbe un personaggio di grande fama e di grande popolarità. Ma di lui non si ha l'impegno a livello politico che ha saputo ben dare, ma soprattutto quello che ha fatto per il Movimento 5 Stelle e nel Movimento 5 Stelle al fianco di Beppe Grillo. Insomma, una morte che purtroppo non trova, per così dire, un motivo valido per cui spegni a questa età, pensate, era solo il 54, era giovanissimo, 62 anni che era appena. Ringrazio voi tutti per l'ascolto, questo video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, informatevi anche voi del perché è morto, anche se non si trova molto nel web. Questo video vuole solo informare eventuali persone rispetto degli altri della frase di Gianroberto Casareggio, di questa morte che si sarebbe verificata oggi, 12 avril 2016 a Milano. Il video termina qua, un saluto e a presto. Grazie.